E' morto nella notte all'ospedale di Empoli, un bambino di 12 anni dopo un incidente stradale in cui è stato travolto da un'auto ieri sera all'ingresso dell'abitato del paese di Ponta Elsa. L'incidente è avvenuto sulla stradale 67 Tosco-Romagnola alle 20.30 a breve distanza dalla sua casa. Secondo una ricostruzione il 12enne stava attraversando la strada, sul posto il 118 e la polizia stradale. Il ragazzino è stato portato in codice rossa all'ospedale dove però è morto. Le condizioni del piccolo sono apparse fin da subito disperate, tremendo l'impatto con la Fiat 500 che viaggiava da Ponte a Elsa in direzione Empoli, condotta da una giovanissima di limite sull'Arno. Soccorsa anche la conducente dell'auto, una ragazza di 23 anni che si è fermata subito dopo l'impatto e che è stata ricoverata in ospedale per un forte stato di shock. Tra le cause dell'incidente viene presa in considerazione l'oscurità in cui si trova la strada.